Ti piace che siano date così le cose e che tu sia arrivato a un livello magari alto? Per i miei sogni e le mie ambizioni e quello che sognavo da piccolino, sì, wow. Però se avessi saputo che questo era il compromesso, non lo so. Avresti preferito scendere di casa senza telefono e beccare i tuoi? Non lo so, ero molto più felice quando non avevo niente, ti dico la verità. Mi divertevo molto di più. Dovremmo vivere un po'. Mondo Cash. Oh, guarda che l'ha detto. Ha mosso le labbra. Ha fatto il lip sync. Non era sicuro di quello che aveva detto. Mondo Cash. Mi devi mille euro. Hai scommesso che va c'è la scossa? Sì, dice dieci. Maledetti testimoni. Oggi abbiamo un ospite... Decezione. Decento o decezione? Decezione. Ah, ok. Decezione. Anche decente speriamo. Anche meglio magari. Buono. Sopra della sufficienza. Da sei e mezzo. Lo giudichiamo alla fine della puntata. Via. Boroboro. Boroboro. Benvenuto. Il nome reale lo sapete? Benvenuto. Federico. Come? Domenico. Federico. 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 Si è presentato prima. Federico Boroboro. Federico Boroboro. O Boroboro Federico. Boroboro è il tuo cognome veramente? Lo spaccherebbe, sarebbe bellissimo. Sì, sarebbe figo. Ci stava. E da dove nasce Boroboro a questo punto? Ah, iniziamo subito a parlare senza veli? Sì. Liberati da ogni male. Allora, Boroboro era una sputapallina di zona mia. No? E quando ero ragazzino, all'inizio che avevo iniziato a fare musica, facevo, che non registravo ancora, arrivando da Torino facevano tanto freestyle, soprattutto fra amici o comunque in serata. E una volta dissi una rima e dissi, per la gente con i soldi dammi uno sfogo, voi sognate Boroboro e i miei fratelli Boroboro. E gli dissi, wow, figo. Allora, volevo trovare un nome per rispecchiare me e i miei amici, me e la mia zona, quindi scelsi Boroboro. Anche 35 era, che è il mio numero preferito, era quanto costava un pezzo dal signor Boroboro. Uno sputapallina cosa vorrebbe dire? Pallina di cocaina, fra. 35 è quanto costava? Una pallina. Storia vera. Iniziamo una grande. Di non averlo mai detto? Sì, esplicito no. Esplicito non l'ho mai detto, però questa è la verità. Bello. Sempre belli nomi d'arte. Comunque abbiamo una domanda, me lo dico da solo. Quanto ne scopate l'ultima settimana? Quando vai in onda? Deve fare il conto anche del futuro, mi sa. Il futuro è una programmazione precisa. No dai, non mi lamento. Range? Verità sempre. Vedete che dico sempre la verità? Come vuoi tu. Sarebbe apprezzabile. Sì. Allora, dipende se voglio uscire o non voglio uscire, se vuoi stare a casa a giocare a COD. Tu giochi. Guarda che Yuri è forte. Yuri è forte a COD. La Yuri è davvero forte. Molto. Anch'io, eh? Tanto. Anch'io, anch'io. Stasera sei on? Eh, stasera la notte. Faccio dalle due alle quale. Anch'io. Uno e mezzo, cinque uguale. Quanto è il tuo ratio? 4.8. Anch'io 4.8 a settimana faccio. No, dico di tipe. Ah. Ok, no, io veramente mi sono fermato un po' di più. 4.8 buone. Buone. È una media ottima, 4.8 a settimana. Pazzesco. Eh, sulle settimane dove magari faccio zero, le settimane dove magari faccio dieci. Sette. Senti, allora andiamo direttamente qui e poi ti facciamo una domanda che è di rito e partiamo con il format che abbiamo di questo podcast. Pazzesco. Di queste 4.8, quante pensi che derivino dalla fama? Ma ti dico la verità, penso che tutte quelle che potevo chiamare per la fama le abbia già fatte comunque. C'è ora più un beccarle, saperci fare, perché io non riesco mai a sentire una tipa, a organizzarmi, c'è tutte le robe che becco per strada, quindi poi da cosa nasce cosa, quindi non saprei dirti quanto è effettivamente per la fama. Comunque anche prima di fare il cantante o comunque di avere dei veri risultati, cioè proprio non ti lamentavi. No, forse chiamavo anche più di più. Di più. La prima persona forse che troviamo che... Dona risposta al contrario. Perché poi cambia comunque l'ottica delle persone, capito? Cioè ci sono... Poi a me non mi piacciono tante quelle, le chiamo le squarcione che ti vogliono per la fama, capito? Cioè... Quindi non tendo ad accontentarmi, a una mi scrive ok, la chi... No, anzi se so che una mi scrive o so che una comunque vorrebbe avere a che fare con me, per me è come se l'avessi già fatto. Sì, infatti alla fine non è l'atto. Non mi viene voglia di conoscere, mi piacciono le sfide, mi piace provare ad andare a prendere l'impossibile. Oggi è giorno da motivazione, l'ho già detto. Dico, mi stanno piacendo un sacco gli ospiti di oggi. Bellissimo il momento thread. Anche quelle non erano persone conosciute così, beh, immagino non... Scusa di cosa stiamo parlando? Impossibile, no? Perché non lo sapesse, tipo me? O me. Posso parlare nello specifico? Sì, vuoi andare nello specifico? Ma all'inizio di thread per ridere mettevo dei contenuti così che avevo... Io non l'ho trovato così, è iterante come pensiero. Io guardando... Però in tanti mi hanno iterato, perché non capivano l'umorismo, capito? Cioè, io mettevo delle situazioni che ovviamente mi sono successe nella vita, come sono successe ad altre milioni di persone, e lo mettevo sotto una chiave ironica, capito? Ma con foto o spiegandolo? Magari mettevo una foto con due tipe, scrivevo io e tipe chiavate ieri. Nel nostro canale Telegram domani troverete tutte queste foto. Ma era per ridere, cioè, comunque era un momento di divertimento della mia vita. Questo non vuol dire che... Perché la gente pensa che sia uno senza emozioni, senza... Perché pensi che pensino questo di te? Eh, perché lo leggo, perché lo vedo... No, nel senso, ma cos'è che di te lascia questa impressione negli altri? C'è mai pensato? Uno, secondo me è la mia faccia da cazzo. Tendenzialmente. E due, perché pensano che comunque anche con la mia musica, che comunque il mio metodo che ho per parlare alle persone, che è la mia vetrina, capito? Pensano che sia una roba molto superficiale. Mentre comunque, uno, non faccio solo cose superficiali all'interno della mia musica. E due, non è quello che sono. Cioè, un conto è raccontare un momento di divertimento, un momento di spensieratezza, un momento di quello che hai vissuto. E un altro conto è raccontare cose che ti pesa un po' di più raccontare. Dove magari vuoi dirle in una chiave un po'... Perlomeno io personalmente voglio dirle in una chiave un po' più nascosta, molto più personale, che gli altri... Non mi va tanto che lo capiscano, perché non sono uno a cui piace dire i cazzi suoi, capito? Ok, quindi immagino che tu abbia pochissimi amici stretti. Seranno quelli di zona storici, magari. Sì, no, anche qua. Comunque a Milano, da quando sono qua, comunque il mio giro di amici, di persone mie fidate, che vogliono un mondo di bene. Quali ci darebbero per me, io morirei per loro, ne ho abbastanza. Ti manca Torino? Sì, di brutto. Torni spesso? Torno spesso, ma torno sempre con una chiave malinconica, perché quando sono in macchina o in treno dico wow, che bello, finalmente ora vado a Torino, però comunque quando ritorno in quella città il mio ricordo non è... Di quello del passato che non aveva quello che adesso, certo. Cioè, magari i miei amici ora lavorano, fanno... Non è come prima, magari scendevo di casa, magari anche senza telefono, perché sapevo dove andare a beccare le persone, sapevo cosa fare il giorno, mentre ora magari vado a Torino, faccio le mie 3-4 commissioni e torno indietro. È come compromesso, cioè, ti soddisfa, ti fa piacere questa cosa, perché comunque vai avanti, fai carriera, fai successo, che poi per ognuno è successo, quello ha un significato proprio, però dico, ti piace che siano date così le cose e che tu sia arrivato a un livello magari alto? Per i miei sogni e le mie ambizioni, a quello che sognavo da piccolino, sì, wow, però se avessi saputo che questo era il compromesso, non lo so. Avresti preferito scendere di casa senza telefono e beccare i tuoi? Non lo so, ero molto più felice quando non avevo niente, ti dico la verità, cioè mi divertivo molto di più. Perché ora hai più pretese e bisogni rispetto a prima? Perché ora non riesco a trovare la novità, non riesco a trovare la cosa nuova, ho vissuto tante cose e molte di queste non me le sono godute la prima volta, perché avevo persone sbagliate a fianco, perché avevo cazzi per la testa, quindi non riesco più a dare un valore oggettivo alle azioni, alle situazioni in cui mi trovo, mi sembra un po' tutto scontato molte volte, quindi preferivo prima che era tutto nuovo, dicevo wow, che sogno che sto vivendo. E tipo il sogno più grande che pensi di aver realizzato partendo da zero, cioè una cosa che pensavi fosse impossibile che succedesse, e poi quando eri là hai detto minchia. Finire a lavorare, a stringere un rapporto di amicizia, a fare una vacanza con uno dei miei colleghi. Ma si può dire il nome o... Sì sì, con Guè. Cioè per me quella lì è stata la raccogna. Anche per me sarebbe fare vacanza con Guè, bello. Cioè proprio quando io ho pensato, mi sono ritrovato lì, per un atti c'ho... Sto sognando. Sì. E si vede dal sorriso che ho appena fatto, perché lo stai rivivendo, bello. Per me era proprio la mia storia nelle cuffiette, capito? Il mio... Una di quelle persone che mi insegnava a vivere quando ascoltavo la musica, perché per me la musica è comunque un insegnamento di vita. Anche quando si dice, con la musica dai brutti esempi, bisogna cambiare anche la prospettiva di questi brutti esempi, perché magari quell'artista si sta dicendo quella roba, ma non ti sta dicendo di seguirli, ma ti sta dicendo io ho fatto questo e mi è andato così. Non ti sta dicendo fallo, che anche a te va così, quindi ti va bene o ti va male, cioè... Anzi... Aneddoto della vacanza con Guè, che poi sembra un podcast troppo serio. Io non penso che si possa raccontare. La faccia che ha fatto è tipo... Questo no, questo no, questo no... Parafrasiamo, parafrasiamo. Quello che puoi dire. Ah, siamo divertiti. Ok. Un aneddoto penso che abbiamo fatto licenziare la tipa che lavorava nell'hotel. In quanto? Beh, in dieci minuti. No, non in quanto tempo. Non lo dico perché. In quanto è successo? Cos'è successo? Ah, perché siamo tornati la notte e eravamo tutti bevuti. Ma in Italia era il luogo, infatti. Eravamo a Courchevel. Ok. Che è, Gabri? In Francia, ovviamente. Eravamo a Courchevel e torniamo in hotel la sera e c'era questa ragazza, che era la reception, che era italiana. Quindi ci conosceva. E quindi l'ho tirata in mezzo, l'abbiamo tirata in mezzo per farci dare da bella. Tipo dicendo, no, non posso, non posso, non posso. Fino al punto che comunque... Ve l'ha dato? Dietro il bar. Abuso tale contro il monopolio dell'hotel. Che l'avete convinta. E non so se poi il giorno dopo ero di nuovo lì a lavorare. Invece che cosa ne pensi della scena musicale oggi? Da quanto è che sei sul mercato te? Eh, ma infatti io farei un paio di passi indietro. Siamo partiti subito forte. Siamo partiti subito forte? Tu quando cominci ad esplodere, in che anni? Allora, ad esplodere... No, ho dimenticato la Aikos. Ce l'hai tu? Ad esplodere... Grazie fratello. Posso caderti anche la terea? Alla menta. Vabbè dai, c'è. Dai, fai il serio. No, allora no. Allora ho visto che offendi quella menta... Vedi se è fumata. Esco da qua, poi devo... Vedi se è fumata? Sì. Devo chiamarle tipo col cinturone se fumo quelle con la menta. Che ha detto? Questo è un pensiero comune, bro. Come dire a chiamarle tipo col cinturone? Eh, bro, per non dire cose brutte. Vabbè, comunque... Cos'è le tipe col cinturone? Possiamo provare a fare una parafrasi? Una tipe col cinturone cosa può essere? Proviamoci. Ah. E perché se fumi leizzi alla menta devi chiamare... Perché sei la checca. Perché leizzi alla menta abbassano la tua aura, bro. Di meno mille punti. Aura points meno mezzo milione. No, vabbè, comunque torniamo a noi. Quando sei partito? Quando sei esploso? Allora, localmente così in Piemonte, Torino, da circa otto anni fa. Sette, otto anni fa. E cos'è successo? Com'è che esplodi? Ma con i pezzi, la gente li ascolta, ti ferma a prestare, ti dice grande. Cioè non c'è stata una cosa particolare che ha una hit? Effettivamente, successivamente, quando feci quella partecipazione alle prime due puntate così del casting di X-Factor, lì la roba iniziò ad andare magari... Che ho portato la stessa roba che facevo sempre a Torino, che mi aveva reso conosciuto nella mia zona, a una vetrina più grossa ed erano iniziato ad andare bene le cose. Poi feci un altro pezzo che chiamavano Money Rain. Money Rain, mia canzone preferita, siamo un altro po' da io. Che è andata bene. Da lì è stato il primo tostello, diciamo, per una roba nazionale, capito? E ti sto parlando del 2019, quindi cinque anni fa. Erano bei momenti quelli, molto più belli di adesso, secondo me. Mamma mia, pagherei tutto per tornare dietro. Anch'io infinito per tornare a quegli anni. Perché secondo me, raga, il Covid ci ha rovinato di brutto. Perlomeno a me mi ha rovinato l'essenza. Io ero molto più... Spensierato? Spensierato, simpatico, cazzone. Il Covid invece mi ha fatto crescere. Devi diventare serio, imprenditori in mezzo. Chiaro. Credo sia una roba un po' comune. Io sono solo bravo a spendere, ti dico la verità. Non investi, non fai... Sì, sì, però mi piace spendere i soldi. Però anche imparare a farvi, cioè chiuderti a casa quei mesi, sono stati tipo, minchia, lavoro un attimino, capisci, entravano più soldi, erano tutti a casa, quello e quell'altro. Io quei mesi penso di aver preso una fucilata sulle gambe, ti dico la verità, bro. Perché non c'erano i live? Eh, perché erano i primi momenti che iniziavo a girare, mi ero già stabilito un certo standard di vita e dico, wow, faccio questo, questo, questo. Alla fine del Covid ho aperto il conto e ho detto, mmh. Forse no. Però a livello di ascolti non è risalito. Avevo fatto Nena, che era andata benissima con Joliet. Sì, sì, le robe andavano bene. Però comunque il mondo della musica, dipende poi che contratto hai con la tua etichetta, con le tue robe. Io personalmente sono un artista che guadagno tanto dai live, dai concerti. Più che dall'etichetta? Sì, i soldi e l'etichetta sono già spesi tutti. Cioè, il giorno dopo che me ne hanno mandati... Tutti i skin su COD, immagino. È un bel po', eh. Senti, quando è che hai capito di essere famoso? Qual è stato quel momento in cui hai detto, ok, ce l'ho fatta? Ma non l'ho ancora pensato. E apprezziamo sempre l'umiltà. Ora la risposta... Ci rispondono tutti così quando lo chiedo. Ma io sto dicendo la verità, non è un fatto di dire, sto facendo l'umile, ah, mi faccio la parte. È che io non sono soddisfatto assolutamente. Cioè, io voglio, e nei miei sogni, è essere molto di più di quello che sono adesso. Quindi io ti dico, per me non lo sono. In cui hai capito di starcela facendo allora? Cioè, quei... Vuoi sapere il giorno che ho capito che ce l'avrei fatta? Sì. Era a scuola. Facevo, per non so che volta, quinta superiore. No, quarta superiore. Stavo scrivendo una canzone. Mi sono alzato, quindi avevo già più di 18 anni, 19 anni. Mi sono alzato e ho detto, io devo uscire. Perché stavo scrivendo questa roba come se avessi capito come fare musica. L'intuizione. Ho proprio detto, ho sentito una roba dentro di me, ho detto, cazzo, ho capito come si fa musica. Ho capito che avevo avuto una crescita incredibile in quel momento. Quindi sono uscito da scuola e mi sono messo al parchetto davanti a scuola a fine di scrivere questa canzone che è stata una delle prime che mi ha permesso poi, non a livello di risultati, ma a livello di consapevolezza di fare delle canzoni che poi sono riuscito ad andare al pubblico. Io sono venuto uscire e poi il pomeriggio entrare con la password del professore nel registro elettronico, levarmi le ore d'assenza all'inizio dell'anno, perché se no venivo bocciato per le ore d'assenza. L'hai finita la scuola o l'hai mollata? No, dovrei fare quinta superiore. Dovrei nel senso che... Lo fai? Lo farai. Cioè l'hai mollata da tempo ormai? Sì, sì. Ok, ma sembrava che avessi ripreso. L'anno prossimo l'ho in quinta. Sono ancora in quinta. Sì, sì, sì. No, mi sono fermato in quinta. Ok, ok. E a livello monetario invece c'è stato un momento in cui hai guardato il conto e hai detto porca troia, ce la sto facendo. No, perché ogni volta che arriva no... Ah, giusto. No, no, no. Cioè le ho le mie belle spalle coperte, però non... Sei soddisfatto dei tuoi introiti o punti più in alto? No, punto molto più in alto. I soldi sono un aspetto fondamentale nella tua vita o sono semplicemente un mezzo ma l'importante è altro? Cioè che peso hanno nella tua vita i soldi? Secondo me è alto. Molto molto alto perché mi permettono di vivere... una vita diversa dagli altri, di vivere esperienze, di portare i miei amici in vacanza, di prendere la casa bella in vacanza, quando sei in vacanza, di uscire e non pensare a questo... una volta passavo la vita a pensare cazzo non posso farlo, capito? Ora le volte che dico cazzo non posso farlo, cazzo non posso averlo sono per delle stupidaggini, per dei capricci, per dei vizi, capito? Che sia a dire voglio uno yacht, cazzo non posso averlo, capito? Mentre prima era voglio andare a mangiarmi il panino dal caffè verniano alle cinque pomeriggio con i miei amici cazzo non posso farlo. Voglio comprarmi le sigarette da dieci cazzo non posso farlo. Quindi hanno un peso perché mi permette di vivere... Se ora decido di andare da qualche parte posso farlo. Musicalmente hai influito questa cosa? Cioè hai preso delle scelte diverse guardando la questione economica? Secondo me, proprio in tutti gli artisti, all'inizio è sempre una marcia in più. Sia perché per il pubblico sei quello del popolo che ce la sta facendo e non quello arrivato, sia perché tu hai quella fame... Che non hai quando arrivi. Piano vedi uno, più uno, più uno, più uno, ma non solo in ambito economico, anche in ambito di opportunità, in ambito di quello che stai vivendo, di persone con la quale riesci a interfacciarti e quindi sei sempre più invogliato e più diciamo in god mode, capito? Poi pian piano è lì che si vede secondo me un artista perché io ti dico, come ti ho detto prima, un guai pequeño, quello lì sono vent'anni che fa musica. Ed è sempre. E vent'anni che riesce ad essere numero uno, riesce a dire robe che interessano dal ragazzo di dodici anni all'adulto di cinquanta. Dire che lì sei un artista. Perché un conto è riuscire a raccontare la tua esperienza, le tue robe e far appassionare le persone. Un conto è riuscire a creare arte e quindi di provare a immedesimarti in delle situazioni, provare a raccontare delle storie che magari hai visto e non hai vissuto in prima persona. Quello secondo me è essere artista. Un po' come se stesse facendo un film, capito? E tu dall'altra parte ascoltandolo lo stai vedendo. E farlo dopo per trent'anni, chiaramente è una roba che diventa... E a livello di passioni e cose di Federico proprio com'è che ti diverte passare il tempo? Cioè cosa sono le cose che ti fanno proprio divertire? Tipo il black humor. A me fa ridere il black humor. No, anche a me, anche a me. Vogliamo raccontare una barzelletta. Puoi sapere invece ultimamente cosa mi sto veramente piegando i due da ridere? Che ti ho detto prima, bro mi guardo tutti i video, tutti, tutti, tutti i video dei fuffaguru di Dubai che si mettono le fighe davanti al micro. Quello che mi sto sentendo... Ah, vedi che era quello che stavo per dire prima del podcast. Che fanno le domande del cazzo, bro. E quello davanti ti risponde con una risposta ancora di più del cazzo. E sono altro deficienti. No, io non ce la faccio. Abbiamo pensato di tutti alla stessa persona. No, io non lo so. Non li conosco, non li conosco. Perché poi ogni giorno me ne compare uno. dico wow, questo è un campione. Per esempio l'altro giorno mi è capitato il video di una ragazza che conosco, di una mia amica di Torino che faceva le domande tipo qua, no? E gli ha detto come domanda non posso dimenticarmelo. Gli fa... è uscito fuori il discorso Marvin Vettori e poi gli fa ma tu faresti sparring? Faresti sparring con lui? Non ricordo. E quello risponde vabbè ragazzi, cioè... Lì sono proprio volato dalla sedia, bro. Non ce l'ho fatto. Un reato. L'avrò messo in replay 20 volte, bro. Questa è la mia passione del mese. Da piccolo mi piaceva costruire gli aeroplanini e adesso mi piace guardare... I fumo che costruiscono le ville. I pakistani che costruiscono le abitazioni. Bellissimi. Anche l'India slapping consiglio a tutti. Sì, sì, sì. Gli indiani che si vanno le schiaffe. Sono delle competizioni. Non hai mai visto? No, mi compaio. Sì, è la mia notte me la passo così. Mi avete fatto vedere anche a me un paio di volte. Sono interessato. Divertito. Sì, sì. Beh, l'importante è quello. Sì, sì. Sempre. Vorresti partecipare? Io me la collerei. Ma contro di l'orsila farei... Non mi sembra una roba troppo dangerous alla fine. Cioè si prendono solo a schiaffi, quindi non è che... Invece va a ridere anche quelli tipo gli indiani così che giocano a qualche gioco strano e vincono tipo l'olio. Non lo ho preso. Ma voglio vero. Il filo di spaghetti. No, vabbè, raga, dai. Ah, ma sì. Lanciano la pallina e sopra ci sono i bicchieri e in base a quello che mi capita vincono la roba. E a volte guarda e diceva, non ce l'ho. Tornava a casa col pacchetto di spaghetti. Ti infila, no? Tipo, tu ti infila. Il pacchetto di spaghetti. Sì, queste cose qui vanno virate. Una volta c'erano cose più di spessore. English or Spanish? Spagnolo. Se ti muovi sei gay. Questo è l'italiano, bro. No. Ti ho spaccato, bro. Bro, ti ha tipo spento un po'. Bene, ricomponiamoci. Va bene, torniamo alle domande serie. La vorrei buttare più sull'ignorante questa puntata. Anch'io, anch'io. Io non riesco ad essere serio. Senti, tu pensi di avere un body count più alto o più basso di Yuri? Viglio, ma questa domanda è nostra. Però abbiamo un sacco in condivisione io e Fed. Post condivisi abbiamo? Sì, post condivisi. Ma non lo so, è possibile. Ma. Non lo so, bro. Non lo so, secondo me spinge, Yuri. Tu sai più o meno con quante donne sei stato? Più o meno. Non lo mai contate, cioè, indicativamente. Tra le 100 e te 4.000. Tra le 100 e le 4.000? I target, quindi. Più o meno. Dalle 0 alle 1.000, no? No, dall'1 alle 5. 5 tipe? 100. Vabbè, non lo devo dire. Abbastanza, abbastanza. Non lo so, bro. Non lo so. Dà importanza al sesso? No, secondo me il sesso è, cioè, secondo me è l'amore proprio in generale. Io magari ogni volta che faccio sesso veramente faccio l'amore. Perché per quei 10 minuti mi sento innamorato, 5 minuti, 20, un'ora. Secondo me l'amore è attimo, capito? Posso innamorarmi di una persona per 10 minuti come posso innamorarmi di un'altra per una vita. Quindi comunque ci do, ci do per... Poesia, poesia. Eh, però è vero. No, questa è poesia veramente. La clip ce l'abbiamo. Ma il mio pensiero è questo, cioè... Poche volte mi sono ritrovato lì a dire perché lo sto facendo. Mi è capitato, eh. Cioè, poche è un più o meno. Mi è capitato a dire ma perché lo sto facendo. Perché non mi davano niente. Perché comunque a me piace. Senti, live ne fai tanti comunque, in discoteca ne hai fatti tanti. Ti sei mai trovato in una situazione di pericolo? Magari gente che ti ha aspettato fuori dal locale, non lo so, in situazioni in cui hai detto... Sì, sì, qualche volta è successo. Anche ultimamente, dico, è successo. Comunque sei sempre scortato, immagino. Sì, sì, ma tante volte anche, dico, la verità... Abbiamo dato le botte, come tante volte le abbiamo prese... Ma cause... Fuori dai live? Sì. Così era cazzo? No, magari, bro, la cazzata o il tuo amico che... Sì. Sponde male a uno e parte... Cagate, bro. E situazione sentimentale di Boro? Come sei messo? Adesso sono... Singolo e spencerano. Ma perché vorrei trovare l'amore della mia vita, bro. E poi c'è l'estate. Ma io mi fidanzo sempre l'estate, dico la verità. Però vorrei proprio trovare l'amore della mia vita. Vorrei mettere su una famiglia. Volete farvi una chiacchierata? Sono stato deriso prima per questa affermazione io dai miei amici. Ma io c'ho 28 anni, ragazzi. Ma vuoi fare un figlio o no? No, c'ho 28 anni, l'avrei voluto fare cinque anni fa un figlio. Anche Gabri. Saresti pronto? Sì. Secondo me sarei un padre bellissimo. Bravissimo, bellissimo. Ti manca solo. Bellissimo. Ti manca solo la donna giusta? Sì, perché comunque non è uno scherzo, bro. Io grazie a Dio ho avuto la fortuna di nascere con i genitori che stanno insieme, quindi non vorrei... Un discorso un po' egoista, però non vorrei mai far nascere mio figlio in una situazione dove ci sono due genitori separati. Siccome non è un discorso egoista. Influenza molto in realtà questa dinamica. Ma non è un discorso egoista, però molte volte mi sono ritrovato a parlare con persone che hanno dei figli e magari che li hanno fatti da ragazzini e non stanno più e mi danno una risposta dove comunque sta in cielo e in terra. Cioè non è una roba campata per aria, dove dicono anche io sono cresciuto così, però bla bla bla. Io però personalmente vorrei far crescere il mio figlio in un nucleo familiare, tra virgolette, normale. E non ti spaventa la vita che hai? No, perché io posso essere un cazzone, posso... No, ma di essere un cazzone è anche proprio semplicemente con la vita che fai le distrazioni, le tentazioni sono umane. L'importante non è sapere cosa vuoi, l'importante è sapere cosa non vuoi. Quindi non sei spaventato? No, ma io ogni volta che mi sono ritrovato in delle situazioni dove con me stesso stavo bene, sapevo di volere quella donna là, non ho mai fatto cagate e robe. Le differenze come si pensa, come si dice, anche perché io non sono uno che risponde alle accuse che mi fanno e lascio parlare. Tanto a me se la verità la so io, torniamo al discorso di piano della musica, a me degli altri non me ne frega niente. Sì, sì, a me chiedeva a te come, in questo caso, categoria di persona, per cui chiaramente con i live, con la fama, è chiaro che non hai le tentazioni che può avere un uomo normale, tra virgolette, per cui... Ma bro, ma se lavorassi in ufficio con altre 40 persone, mi giro e ho le mie colleghe che fanno le furbe con me, la stessa identica roba. Anzi, io magari sono più inarrivabile. Sì, solo che ci provano magari, cioè è più difficile che ci provino con te, io immagino che tu vai al live, hai tipo una schiera di persone che ci vogliono provare con te. Ma se io vado nel live, bro, e sto dietro, nel backstage, mi bevo le mie robe con i miei amici, salgo sul parco, tanto, torno indietro, vado sul van e me ne vado a casa. No, no, sei bravissimo, semplicemente sei bravo a resistere alle tentazioni. È quello che faccio praticamente sempre. Top. Cioè, secondo me, tu mi fai stare, ti rispondere a una domanda così, se fossi Brad Pitt, brother, ti direi, eh, c'è ragione, ma non sono Brad Pitt. Sì, di Caprio e Brad Pitt, sì. Sì, lo stai scherzando. Sì, in serio. Stai invecchiando, non la pensavi così tanti anni fa. No, ma poi è a casa che scrivo sinistro. Ah, no, che bravo. Fit che vorresti fare? O li hai già fatti tutti quelli che... No, 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 vorrei farne molti. Qual è il fit dei sogni? Un gol musicale? Straniero, italiano? Come vuoi tu? Ma ti direi Bad Bunny, bro. Eh, vabbè. Calzante. Rau Aleandro? Sì, però se tu mi dici quello che vorresti fare... Ti direi Bad Bunny. Ovviamente che Raul Aleandro mi piace. Riconosciuto? A Bad Bunny? No, mai. Mai beccato? Mai. Mai, mai, mai. Top tre artisti del momento che ti piacciono di più in Italia? Sfera? Guè? E poi per quanto sta spaccando è anche perché è una ragazza, ti direi Anna. Sull'Urban, eh? Lei spacca. E invece al contrario? Un paio di nomi che non ti piacciono proprio nel panorama italiano? Solo un paio? Un paio? Tre, quattro, dieci? Ma bro, ma io sai che le cose che non mi piacciono tendo proprio a evitarle proprio di... Cioè, quindi non saprei dirti, no, quello mi fa... Ti parlerei per antipatia, ma l'antipatia va a livello personale, non a livello artistico. Quindi è un discorso non senso. Chiaramente poi magari non ti fa piacere neanche il discorso artistico. Sì, a me le cose che non piacciono proprio non riesco a dirti, no, quello non mi piace. Cioè, magari sento una cosa che non mi piace, la schippo. Non sono uno che tende a odiare la roba che non gli piace. Come lo vedi invece il cambiamento della scena proprio musicale, anche e soprattutto sul vostro genere, da quando sei partito, quindi 2019-2020, ad oggi? Cioè, molto diversa, no? Anche in termini di... No, è cambiato tanto, è cambiato tanto, tanto, tanto. Però comunque è cambiato tanto perché è diventato... La nostra roba è diventata un mainstream, secondo me. E soprattutto il rap è diventato mainstream. Anche se quando io... Prima non veniva messo in radio, eccetera, eccetera, ora da tutte le parti. Beh, ora purtroppo comunque le radio, come sempre in Italia, sono un po' una maschera, eh. Perché comunque non sentirai mai il pezzo di Baby Gang che va in radio. Quello di Baby Gang proprio, capito? Sì, sì. Va in radio quello con Fabri Fibra, dove comunque c'è un discorso pulito, c'è un dialogo pulito, eccetera, eccetera. Non vanno in radio lui che dice quello che effettivamente vive, che effettivamente fa, che effettivamente è la realtà dei fatti, ora come ora in Italia. Capito? Quindi comunque c'è sempre una maschera. Ma poi molte volte anche io mi ritrovo a dover... Che magari faccio un pezzo per farlo andare in radio e mi devono cambiare delle parti, me ne devono mutare. A me sta roba fa un po' ridere. Perché comunque dopo quel pezzo magari la mia canzone è così tutta censurata, dopo va in onda una canzone spagnola, dove l'artista dice no, perché la tipa l'ho presa, l'ho scopata nei divanetti, mi ha squirtato tutto addosso. Un po' ridicola come situazione. Ti sei mai sentito in una situazione, sei mai stato in una situazione in cui un'etichetta ti dice il pezzo così non te lo pubblichiamo, devi cambiarlo, questa cosa non la vogliamo pubblicare, o cose del genere. Magari provano a dirmi la loro, però se io sono convinto di quello che voglio fare, sono io l'artista. E sei libero di farla? Se tu credi in me e credi nel mio progetto, facciamo come dico io. Poi magari sbagliamo, magari facciamo gol. Comunque sei libero di fare quello che vuoi alla fine, non hai gli obblighi o restrizioni. Io ho un contratto dove sono... il mio contratto è cast con la mia etichetta, quindi comunque sono tra virgolette l'ora di avere sempre l'ultima parola. Però comunque si discute, non siamo mai arrivati a un punto a dire... No, ok, questa roba qua io la voglio fare, loro mi hanno detto no, non la facciamo. Si portano i punti a favore, robe, e poi provi a convincerli tendenzialmente. Senti, te pensi che fra dieci anni sarai ancora sulla scena a fare la stessa cosa, o ti sei messo una sorta di data di scadenza per fare altro nella vita? Ma io non... penso di sì, cioè nel senso per me... E poi lo faccio per me, capito? Quindi non so dirti... Magari dopo domani mi sveglio e dico non c'ho più voglia di fare musica. Tu al momento pensi che lo farei per sempre? Sì, è la mia vita, bro, è la mia vita, è la mia unica valvola di sfogo, è come se ogni mattina mi sveglio e scrivo sul diario quello che mi è successo, quindi non potrei smettere di scriverlo ora. Quindi sì, vorrei sempre fare musica nella mia vita, al di là dei risultati, anche perché poi quando ho iniziato non è che lo facevo per i risultati, capito? Tu al momento devi farlo, cioè indipendentemente dai numeri che fai, dagli ascolti che fai... Ma sì, a me non me ne frega niente di quello, proprio zero. È una conseguenza. Sì. Situazione più bizzarra con delle ragazze? O con una ragazza? Guardate, ma da quando mi stai lavorando? Alla shoot time. Non lo so. La prima che ti viene in mente. Ce ne sono state tante. Eh, analizziamole tutte. Esatto, per sì. Andiamo una per una. Dammi una mano, bro. Tipo, cosa potrei dire? La regia, anche oggi. La regia. Saludiamo ovviamente al solito il nostro pubblico. Cosa posso dire? Niente. Eh no, ma perché bizzarre, cioè... Richieste strane. Eh... Bro, tutto quello che puoi immaginare nella vita me l'hanno chiesto. Ok. Tutto. E l'hai mai fatta? No, tutto no. Tutto no. Tutto no. C'è tipo una richiesta che ti hanno fatto e che non hai accettato? No, la tipa mi ha chiesto di... Cagarle addosso. Bravo, bro. Chiaro, immaginare. Cioè, è pesante. È un classico. È che lei poi lo faceva. E lui ha detto, ma va, non scherziamo. Ah, c'era pure il bar. Ma voleva fare una cosa reciproca. Sì, ma ha detto, ma dove cazzo vivi? Ma poi sei fuori, dai. E non ci sei proprio andato? O ci sei andato in modo più... No, me l'ha chiesto quando eravamo in situazione, bro. E com'è stato? Cioè, tu mi hai vissuto. E poi io queste robe qua, brother. E sarei curioso di sapere. Mentre stai chiamando e una ti dice, cagami addosso, come la vivi in quel momento lì per lì? Ma bro, io penso che... Io pensavo stesse scherzando. Ah, ok. Perché un giorno mi potrebbe inculare, brother. Ci sto. Per l'ant... Ok. Non lo fai perché non è una cosa che ti attrae o perché dici... Uno non è... No, no, bro. Se è la mia donna, magari... Sì. Però bro, non so chi ho davanti. Cioè, la tipa si fa legare robe e poi va a dire qualcosa, brother. E io la piglio nel culo. Cioè, quindi no. Poi per cosa? Ovviamente nel nostro canale Telegram andremo a mettere le foto di lui che lega... Certo, certo, certo. Quindi canale Telegram invio e... Yuri è tipo... Cringia di tipo... Dimmi di più, dimmi di più. Yuri è lì. Yuri avrei cagato. No, ma se... Sapete... No, io non avrei cagato in questo a nessuno, no? Sono curioso di sapere se ti hanno mai richiesto una... Così si dice? Golden Shower. Sì. Golden Shower. Loro a me o io a loro? Tu a loro. Dici di più. Domanda aperta. L'hai fatto? Sì, è successo. E com'è stato liberatorio? Ma bro, non mi ha fatto impazzire. Io conosco della gente che impazzisce per sta roba, bro. A me non mi ha fatto impazzire, cioè proprio... Tu l'hai fatto a lei? Sì, ci manca, mi faccio pisciare addosso. Eh no, infatti... Quindi l'hai fatto? Sì. Ok. Tu, Yuri? No, non ho mai pisciato addosso a nessuno. Non mi sono mai fatto pisciare addosso, mi manca. Poi vabbè, ma se devi vedere... Poi la dobbiamo vedere il lato un po' più così. O Squirt, alla fine, ha anche base di... Allora quello sì. Però quello è più... No. Però quello è soddisfacente, perché comunque il risultato lo porti tu, capito? Champion, sì. Sì, sì. Diverso. No, 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 la stessa identica roba. È solo che esci in un contesto diverso. A livello di soddisfazione e anche la stessa lo fare è un'altra cosa. Ah no, sì, sì, certo. Quello è il risultato, è un traguardo che arrivi... Poi magari sono anche dei tipi che fai così Squirtle, bro. Sì. Non lo so, a me no. Poi... Non è successo. Quindi perché le gare no? Non ti attizza la roba, ma... No, bro, perché poi viene arrestato. Tranquillo, una... Fatemi arrivare alle mie domande. Bro, te l'avevo già detto, ma se vuoi litigare lo dici. No, te l'ho detto così, con una tipa così che me lo chiede così... No, stavo andando. Che cosa è che ti piace fare? Non ti preoccupa, che magari ti possono... Perché anche io ho avuto dei traumi in passato. Per me il divertimento è divertimento. Soprattutto a letto il divertimento è divertimento. Ti hanno mai registrato di nascosto? Non mi faccio registrare. No, inteso tipo... Oltre, ho sgamato una che c'era la registrazione vocale nel telefono e nella borsa. Cioè il pallino rosso qua sopra ti è stato pesante, bro. No. È mai successo? Almeno non lo sai. A parte non lo sai. Ma tu pensi, tipo, ti immagini la situazione dove praticamente tra 5... No, fai tra 20 anni e hai un figlio di 18 anni o di 15, no? E magari, spero di no, però vivi in Italia ancora. Sì. No, spero di no, perché non voglio che tu viva qua. Perché speri che sia già schiattato. Probabile. E tipo tuo figlio scopre che si chiava le figlie di quelle con cui sei stata tu. Ce l'hai mai pensato a questa immagine? Bro, ma tu hai mai visto il film Mr. Nobody? Credo di no. Bro, in poche parole c'è... È lungo dall'aspetto. Però fatto sta che c'è il figlio di questa mamma che lui scopre che tradiva il padre con un tipo e lui si faceva una tipa che effettivamente era la figlia del tipo con cui stava la mamma. Quindi vanno a vivere in questa casa in quattro. Scambiano la famiglia. E i genitori non sapevano dei figli, però. I tuoi cani come stanno? Bene. Stanno bene, mangiano casa. Ho visto gli anelli. Eh, sono loro. Basos, Chiris e Rocco. Ma te li sei fatti fare tu personalizzati o è stato tipo qualcuno che ti ha scritto e poi li li fatti fare? No, no, me li hai fatti risivi. Sono le loro facce proprio. Bellissimi. Te l'ho vista prima e ho detto carino. Le loro facce. Avere rispetto per i propri anelli. Adesso saranno mangiando il divano. Stanno mangiando il loro dentist. Vacanze s'estate che piani hai? No, lavoro. Cioè le vacanze magari... Oggi penso vabbè dai domani me ne vado Ibiza. Vado Ibiza tre giorni. Anche perché l'estate è tipo il periodo in cui fai più live immagino. Che poi vabbè vacanze. Non è vero, vedi? Adesso dici che non è un vero lavoro. No, vacanze. Dall'influencer. Non fai live nella discoteca a Milano. Magari lo fai a Porto Rotondo. Bello, bello. Ma ti racconto ad agosto cosa devo fare? 16 sono a Gallipoli. Il giorno prima non so dove sono. Il 16 arrivo, stanco a Gallipoli. Suono a Gallipoli. Alle 8 di mattina c'è il volo perché c'è uno scalo. Da Gallipoli a Mykonos. Da Mykonos arriverò alle 7 di pomeriggio. Alle 9 suono. Magari faccio un po' di serata, festa, dormo. E la mattina c'è il volo per andare a Zante. Sì, faccio Gallipoli, Mykonos, Zante. Ma che vacanze sono? Impegnativo. Impegnativo. È stressante comunque come vita. Ti è mai capitato? Immagino sicuramente di fare doppia serata. Ma se ne ho fatte 4 una notte. 4 live in una notte sola. Devastante a livello energetico. Sì. Però è bello, divertente. Sì? Sì, sì. Hai ancora la stessa voglia di fare live? La stessa cazzima che avevi un tempo? O adesso sì, lo fai live, però non è più la stessa cosa? No, a me piace. Io ho iniziato a fare musica perché ero al concerto di un artista italiano. Ero lì nella prima fila. Ho visto lo scambio di energia e ho detto Wow, figo, io voglio fare questo nella vita. Capito? Lì proprio ho detto Ho trasformato la passione per la mia musica In un obiettivo della mia vita. Perché mi piaceva quello scambio di energia. Quella energia che si crea. E quindi per me il live è la cosa più importante Che c'è nella musica. Più di essere in studio, più di fare la hit. Più bello far divertire la gente che c'è sotto. Quindi dipende, ora come ora ti dico Dipende dalle situazioni in cui mi ritrovo. Da che tipo di persone ho sotto Da come ho organizzata la serata Un sacco di robe, però a me piace. C'è un tuo live che ti è rimasto impresso? Perché è tipo top live che hai fatto per qualche motivo Non necessariamente a prestazione. 7 giugno o 7-9 giugno del 2019 Perché è stato il primo grosso? Del 2020, scusami. Il primo dove c'era tanta gente E proprio la gente era presa benissimo Lì ho detto wow Gli ho detto che sogno Dove? Eravamo a Ghedi A Ghedi era Che è in Basilicata Trae qua vicino Brescia Io penso fossi in Marocco Mi dico la verità E avevo sparato una subentia Come stai? In questo periodo di vita Che pensi ti sta portando? Sei sereno? Sì sì, sto da Dio Lavorando? Lavorando ho cambiato molti tesseri nella mia vita lavorativa Sì Quindi ora mi sento da Dio Ti dico la verità Penso di aver ritrovato l'essenza di Sei sereno proprio? Sì sì, tranquillo Perché poi arrivo da 2-3 anni fa Così era un periodo un po' brutto per me Un po' buio Intendi a livello musica? No, intendi a livello personale? Sì a livello personale Sì a livello personale E ora sono da Dio Sei riuscito a portarti dietro qualcuno dei tuoi amici di vecchia data A farli non so lavorare con te? Sì, il mio miglior amico lavora con me Per sempre Tanta roba? Anche altri quando vogliono venire vengono Però lavorativamente lavora Anche perché poi tutto il resto del mio team è qua di Milano Lui da Torino È il mio tour manager Quindi quello che gestisce tutte le mie robe Quando siamo in giro Dai soldi a tutto quanto È lui Perché è l'unico di cui mi fido Cicamente Fare un tour Come vi ho detto Sarà stancante Eccetera Però ti diverti Cioè è divertente Capitano mille robe Succede di tutto Succede di tutto È veramente divertente Senti tu hai rapporti con droghe? Vizi? Ho smesso Vizi, droghe Ho smesso con tutto Hai provato in età passata? Praticamente tutto Però hai smesso completamente? Sì Non fumo neanche più le canne Come mai? Perché mi davano ansia Tutte le robe le ho finite per l'ansia Però la tachicardia Non me la vivevo bene Quindi adesso fumo solo il CBD Per crearmi un effetto placebo Ma funziona il suo CBD? Io ho trovato un CBD buonissimo Che sembra una canna normale Quindi a livello di gusto e robe Per il mio effetto placebo Sto fumando una canna Ok però non ti sballa? No Ti rilassa? È solo il fatto che ti stai chiudendo la canna E fumare L'abitudine E ho poi il gusto in bocca Codice Boroboro 10 Per acquistarlo online All'interno del nostro canale Telegram C'è il link della miglior marumana legale Che voi potesse desiderare Ma io voglio sapere Perché alla fine Poi noi ci siamo persi negli anni Quindi effettivamente Non so come passi le due giornate Oltre che lo studio E ho capito Che giochi a COD Ma quello faccio Basta C'è altro nella vita È bellissimo Ti alleni anche? Sì la mattina mi alleno Ok questo volevo sapere Passioni? Cosa ti piace fare che non sa nessuno? È possibile boroboro Che si legge un libro di filosofia? Bro sarebbe il sogno della mia vita Ma non hai tempo Ma non riesco a prendere un libro in mano e leggere Non voglio fare le ranche Lo so ti do ragione su questo Sei quante volte ho comprato libri Ho comprato libri ma non riesco a leggere Non riesco a leggere bro Come da ragazzino Non riuscivo a scuola Non compravi libri Perché leggere mi annoia Ma ci sta Ma a te piacerebbe Mi piacerebbe tantissimo Però pensa Nel senso tu fai un lavoro dove racconti E lì stai facendo la stessa cosa su una chiave di via Stai leggendo racconti di altri Quindi potrebbero arrivarti anche altri stimoli a livello lavorativo Ma se riesco a trovare qualcosa che Come quando magari mi capita qualche articolo sul telefono Qualche roba che mi interessa Che mi prende me lo leggo Però la stessa roba dei film Non sono un assiduo Si guarda i film a manetta Perché se non trovo quello che mi prende Non riesco a guardarlo Per esempio quando trovo il film che mi prende Mi concentro Magari dopo dieci minuti dormo Cioè se a me un film piace Ci metto dieci giorni a vedermelo Perché mi addormento Perché mi addormento Perché mi concentro Infatti per andare a dormire Io trovo un film che mi piace Oppure mi guardo per esempio Le Iene Le Iene perché mi interessano I servizi Mi interessano le robe E quindi lì riesco a Lasciare tutto il mio mondo I miei pensieri Le mie ansie Da una parte E immergermi in quella roba E quindi dopo un po' mi addormento Hai fatto tanti regali Alla tua famiglia Da quando hai iniziato a guadagnare di più No e a mio papà non vogliono Nulla? Ok Se ho comprato qualche loraggio Il mio papà Così Qualche loraggio Sono soddisfacente da parte tua Immagino no? Sì Non tanto la risposta che ho Ogni volta che gli do Qualche roba E va bene Ad esempio una volta A comprare Mi mamma gli ho regalato Una bellissima borsa di Marni Così Ma fa carina Qua e la Il giorno dopo mi chiama Tu sei un coglione Hai speso Tutti i migliaia di euro Per una borsa Io la borsa manco la metto Ho detto senti Ma vai a fare in culo Non ti compro l'ero E mi dici Non mi compri mai niente Mi compro la borsa Mi rompi il cazzo Come devo fare? Senti uno sfizio Che ti sei tolto Che tipo Avresti sempre voluto toglierti E poi finalmente Ce l'hai fatta? I miei tre cani bro Avere tre cani Bellissimo Sono la mia famiglia Dopo la roba Che volevo da piccolino Semplicemente Voglio un cane Voglio un cane Mi mamma e mio papà Non me l'hanno mai preso Prima cosa che ho fatto È pensato prendere un cane L'anno dopo L'ho preso un altro L'anno dopo L'ho preso un altro Ad oggi avevi te E i tuoi tre cani Sì E tipe impossibili A cui piace conquistare 4.8 4.8 media Ah già Sì le mamme Le mamme Le mamme dei cani Tipo madre e figlia Mi hai fatto? Una volta stavo per fare l'amico Lo stico la verità Però non l'ho imbastito Ho fatto gemelle Eh era la prossima domanda Beh la gemella è bella Ma uguali? Sì C'è tipo similissime Sono il colore di capelli Sì sì Bello quello Dai altre domande così La donna più vecchia Donna più vecchia Aspetta faccio finire di conversare La donna più vecchia con cui sei stato? Ma non era tanto grande Penso 37 38 Onesto Non mi fanno impazzire No Quella più piccola Non mi ha chiesto Però non mi ha chiesto Un personaggio pubblico Quando ero piccolo 9 anni Dai bro Sto parlando a lui Non a te No beh è esagerato Di me No scherzo Ora come ora Che ho 27 28 anni 18 18 Ma non mi piace manco bro Perché comunque Ti fai una chiavata di merda La verità è questa Cioè No Non mi piace Non mi piace Sul 35 anni Avrei detto di più Non mi fanno impazzire Le Milf Ci sta Questa è una ragazza Cosa? Questa era una bellissima ragazza Sesso con più persone insieme? No Quante persone insieme? Quante persone Bro Ti dico la verità Solo una volta Mi è capitato Nella mia vita Di Essere una mucchiata Una mucchiata no Assolutamente no Però di Di farlo con Anche qualche altro ragazzo E non mi è piaciuto niente Preferisci tu Massimo di donne insieme? Due Tre ho fatto una volta Però io per esempio bro Ogni volta che Cioè Quando tendo a Fare stesso per divertirmi Provo sempre a fare Più persone Io e due Perché mi piace molto di più Cioè Lo trovo molto più Più bello Più divertente Per tutti A livello soprattutto Di piacere per tutti quanti Soprattutto se quelle due Sono mentalmente aperte È bello Ti capita spesso di trovare Persone disposte? Sì Che poi se ci pensi In realtà Quando ci sono i tre Insomma Io ho sempre pensato Che una delle due tipa Non se la vive bene Perché c'è sempre una favorita Capito? Quello non tanto Però devi riuscire a trovare Quelle aperte mentalmente Proprio aperte mentalmente Non quelle che lo vogliono fare Perché Siamo Sia una che l'altra Vorrebbe Vorrebbe avere a che fare con me Capito? Quindi fra di loro Non c'è quello Come se loro fossero un tutt'uno E stanno andando con te Quell'apertura Intendi? Esatto Perché Voglio che anche fra di loro Ci sia Quell'interazione Quelle robe E poi per me Comunque È anche più facile Secondo me Farlo con due Che farlo con una sola Cioè Per un maschio È molto più facile Più un milione di punti Più un milione di punti Aura Chiedati bro È molto più facile Ma perché fanno anche tra di loro Che quindi ti danno No è più facile Sì è più facile È più divertente Però è una minchia sola Come dovrebbe Perché è più facile Spiegami la tua teoria Voglio Però per me è più facile Non lo so Tipo come ti muovi Come gestisci due tipe Sei lì E cosa è che ti vede più facile? Bro Dipende molto da loro bro Certo Però se ti dice che è più facile Sì è più facile Sì è più bello Più facile Più bello Senza ombra di dubbio Ma più facile è intendere a farle godere? Sì Comunque prossimo obiettivo Madre e figlia No Però il mio obiettivo della vita È trovare la donna della mia vita Però un figlio È come con Gabby Ma l'abbiamo capito Bro mi sono divertito Vabbè allora Allora invitiamo solo persone Che vogliono fare la famiglia Ma possiamo invitare Come si vuole divertire ancora? Mamma mia Me ne vado Cioè un'estate di lavoro Un'estate si sta lamentando Un'estate di lavoro Sempre in giro Sempre in giro Non vuole Non va più roba Non scrive a tipe Ma che è successo? Ma che artista sei? Scherzo Cioè sei giovane È sbarbato Non ho più a chi scrivere Non ho più a chi scrivere Non ho più a chi scrivere Questo perché hai dato tanto Nei ultimi anni Cioè questa è stata Sì ma poi tanti mi odiano Bro così No Perché? È proprio perché Quella roba del figlio è capitata Con più persone No 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 È l'unica volta in cui ti è capitata Fai un episodio del genere No ma lo odiano perché le ha scopate Bravo Ah non parlavi di quello Magari il passaparola Di quella lì No magari perché sono amiche di una Capito? O perché dicono Questa è una mentalità da ragazzino Questa è un puttaniere Questo è un puttaniere Perché dici che ti odiano? Te l'ho appena elencato No Quelle con cui sei stato Ma però Perché tendenzialmente poi Io faccio un po' Tipo la mossa La Kansas City Capito brother Poi Quando le incontro Faccio un po' Il vago Molto vago Dopo? Tutti Tu ti chiami Tu ci conosciai Aspetta Fermi un attimo Questa roba qua Mi è successa Tante volte Senza fare il giochino Senza farlo apposta Immaginavo E la domanda dopo è E a te come ho detto Che mi chiamo? No 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 Ho sicurato Però tante volte Mi sono pensato a delle ragazze Ho detto Ma come Sei sicura? No 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 Ti racconto un'anedoto di Ibiza Adesso sono stati Ibiza Un amico mi fa vedere Il profilo di Ibiza Mi dice No questa qua è La colombiana Che c'è avuta a che fare A Milano Poi è là Allora Pio il telefono E le scrivo Amor Donde sta? Viene a chi? All'io? Vieni qua La tipa arriva Arriva a lei Un'altra E io saluto subito Quella che Teoricamente Non colombiana Scusami Uruguayana Saluto subito Questa E poi saluto L'altra Mentre vado via L'altra L'altro mi fa Bro guarda che tu non hai scritto Alla tua tipa È scritto all'altra La tipa mi dice Ah ma come fai? Ma tu conosci mia moglie Come tua moglie faccio? Le tipa erano sposate E io non avevo scritto alla mia Avevo scritto all'altra Ok? La mia è andata via Io ho fatto tutto il tempo La serata con l'altra Tutto il tempo Farmi Limonarmi questa Farmi questa E la tipa fa Vabbè adesso vengo a casa Vengo con Con l'altra Qua e là Qua e là Io ho detto Vabbè dai è a posto Oggi è andata Che mi chiamo due mogli Ho detto Prima di andare via La tipa mi fa Però ci devi fare un regalo Tu credi? Faccio Cosa vuoi? 600 euro Meno Meno Mezzo milione di euro Poins Sai chi che cavo? Io faccio Ma come 600 euro Mi ho detto Una la tua amica Me la sono chiamata gratis E tu adesso devo pagarla Ma poi io non pago Per queste robe A me proprio Non sono mai andato A puttana In tutta la mia vita Mai Non spenderei mai Un euro per chiamare E quindi E quindi E quindi No è brutto Che cosa brutta è bro? È un lavoro come tutti gli altri Che fa Spotify Non lo paghi? Spotify non lo paghi? Sì sì Però puoi anche avercelo pezzotto Nel senso No no Spotify bisogna pagarlo Perché Sì No però Non è una Non mi piace pagare Per avere Prestazioni E quindi quella volta Gli hai detto No? Ci manca bro E non sono venute con te? No Pazzesco È ben litigato Perché io gli ho risposto male Perché la com' è 600 euro Sai chi sono? 300 300 300 cada una Mi diceva Fai se vuoi vengo solo io 300 Faccio anche 300 300 Ma età di queste Quei età ne è? 29 30 Ok Da MILF quindi Ah hanno figli sì Un classico Hanno figli Sì vabbè ma sono Scoperto che erano delle escort bro Eh sì solitamente quando chiedono soldi Nella fortuna Dovevamo mettere solo per le ragazze Trisome con Boroboro Comunque adesso ci penso In tutti gli stinti In tutti gli stinti bro Allora facciamo così Facciamo così Oltre alla fortuna Una tra le ragazze che commenterà questo video Due 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 a meno no Vinceranno Ok Perfetto È arrivato il momento È arrivato il momento È arrivato sicuramente il momento Di che cosa? È arrivato il momento Di che? Come di che? Della fortuna Della nostra Fortuna ruota Dove girarle io? Sì aspetta Però prima dobbiamo spiegare Spiega Gabri vai Questa non è altro Che è una ruota Formata da 12 Non è altro che una ruota Non lo dici È molto di più Dov'è il pacenco? È quello rosso Non è altro che una ruota Formata da 12 o 14 spicchi Di 6 o 7 colori In cui ci sono Delle cose Che un fortunato O una fortunata In questo caso fan Vincerà Commentando Questo video E mettendo mi piace Chiaramente assieme a te Adesso puoi girare Cioè quello che esce Praticamente Lo fai Lo fai con un fan Insomma Con cattiveria No Dai però che moscezza Così eh Cattiveria Se No Troppa cattiveria Va bene Va bene È una ruota low cost Quindi Succede Insomma Ci mette un po' Di solito Quanto hai messo Sull'uno Non era la domanda Da fare Queste persone Io gioco Di solito 350 50 50 50 No Questa PGA Va pagata La mettiamo nel canale Telegram Una serata Insieme Con Boroboro Ho vinto No che si è uscito Serata insieme Serata insieme Se è una donna Poi può finire Come finisce No Sono un bravo ragazzo Allora Se siete delle brave donne Madri Vuoi mandare un messaggio Alla madre dei tuoi figli Magari sta vedendo questo video Dai fallo Sto sacrificio Dai Diciamoglielo Come la vuoi Come la vorresti Bionda con gli occhi azzurri Bravissimo Bionda con gli occhi azzurri Quella è la vera bellezza O anche Mora con gli occhi verdi Ok Quindi qualsiasi donna tu sia No Mora con gli occhi verdi Molto specifica come cosa? Ma perché sono sempre stato con Mora con gli occhi verdi Quindi Perché le bionde con gli occhi azzurri Anche se ho fidanzato con Però dopo un po' mi annoiavano Perché hanno un caratterino un po' strano Ok Quindi Noi accogliamo candidature Nei commenti di questo video Sì sì Giro la mail se vuoi dopo No no Commenti il video Poi tu puoi selezionare Tanto Ok A parte gli scherzi Buono È stato un piacere È stato un piacere Piacere non è mio ragazzi Veramente Ci siamo divertiti Al solito ragazzi Noi ci vediamo Aspetta devo fare una domanda io E voi come giocate invece? Te lo diciamo Blackjack lover Crazy time c'è un problema serio Quale? Quale? Che va Sempre in cibo C'è il nano dietro Sempre in quello a fianco C'è il nano dietro C'è il nano dietro C'è il nano dietro 50 50 50 Ma te già chi? Tu dici 300 Sull'1 Sull'1? Ma noi non siamo pro player Abbiamo sempre giocato Blackjack e poker Abbiamo giocato tipo 5 volte Perché tu sei professional roulette Cosa mi dici della roulette Con i robbie di crazy time? C'hai mai giocato? Cioè che se esce il numero È buono No ragazzi Ultimamente sapete dove sono impazzito Fortissimo Panko Ragazzi c'è un gioco su colpi Si chiama penguin Non so se è del penguin Quello che devi giocare Devi tirare il rigore No No ragazzi Ma è un gioco d'azzardo? Sì è chiaro Faccio quello e poi l'aeroplanino L'aeroplanino Avietor Avietor La donna Avietor È una rovina Ovviamente ragazzi Non betti uno di uno su COD? No Cosa? Potremmo iniziare a bettare uno di uno su COD? Ma no no Io mi sono tolto Allora bro Era uscito completamente dal mio vizio del gioco d'azzardo Dopo che Mi sono preso una bella batossa In due settimane di vita Ho detto no basta Non posso mai più giocare nella mia vita Perché c'eri proprio deep? Però Quanto hai perso? Non so se Off camera Tanto sta roba non si pubblica Non la pubblichiamo La bippiamo È in due settimane tipo Porco Euro Bippate anche gue Eh sì A cosa? A Crazy Time? Crazy Time bro E poi mi dai consigli Crazy Time e Monopoli Pesante Monopoli tipo Crazy Time Sì O il Big Baller bro Quello che è tipo il bingo Ma è Blackjack e Poker? Niente Casino Casino Vero Casino Real No Ogni tanto Mi sento sempre su Poker Ultimate Ok O Poker Ultimate O Bukofra Ok O Laiso Bukofra Esatto Va bene ragazzi Detto questo Grazie Fer Davvero un piacere Chi commenta vince la serata insieme a Boroboro Grazie ragazzi per averci seguito E ci vediamo nel prossimo episodio di Mondo Cash 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 E ci vediamo nel prossimo episodio di Mondo Cash